Perché ho con te, perché ho voglia di stare con te e i figli non ti preoccupare. Se adivano di essere, perché ho con te, perché ho voglia di stare con te, perché ho voglia di stare con te, perché ho voglia di stare con te. Certainly che ho voglia di stare con te, perché ho voglia di stare con te. Oh yeah, oh yeah. Grazie.